40 anni e non sentirli è il titolo? Quasi 40 anni. Sì, no no, 40 anni ci sono tutti, però... Quasi dai? Quasi. Però cerco ancora di divertirmi, di aiutare i ragazzi più giovani, di dare sempre il massimo e l'importante è avere sempre motivazioni importanti. Ti aspettavi il regalo del Pescara avanti 1-0, quella ripartenza che vi ha regalato in occasione del tuo gol? Ma normale, nel calcio quando fai gol ci sono sempre degli errori da parte degli avversari e stavolta è andata bene per noi che avevamo bisogno in questo periodo.